Comportamenti, dico di più, siccome ci saranno da affrontare degli investimenti importanti a breve e a lungo, l'Europa tolga il vincolo agli euro bond, faccia debito europeo per combattere un'emergenza che è europea. E lì, come le sa, bisogna convincere i tedeschi soprattutto. Speriamo che si diffonda quanto prima anche in Germania, così colpisca i giudici. Insomma, non è bello dire, speriamo che si diffonda in Germania. Diventa un problema di tutto e si renderanno conto della gravità. Finisco con le misure adottate. Ieri ne abbiamo parlato con i rappresentanti del governo. Ci sono misure importanti e noi prima si attuano meglio. È cassa integrazione, ordinaria in deroga, anche fuori dalle zone rosse, fondamentale. Credito d'imposta, perché come diceva prima, se non si interviene subito le aziende finiscono la liquidità. È a lungo grande piano straordinario, discusso col Ministro Di Maio, di comunicazione internazionale, ma anche piano nazionale, perché anche in Italia c'è qualcuno che diffonde idiozie, tipo il Presidente dell'Ordine dei Biologi, che dice che questo virus è nato tutto in Italia. Quindi grande comunicazione nazionale. Vincenzo D'Anna, per l'ex parlamentare e il Presidente dei Biologi. No, però adesso poi non possiamo mettere in croce... In una situazione di psicosi ciascuno deve rispondere anche personalmente di quello che dice. Io credo che ci voglia un grandissimo senso di responsabilità e buonsenso, che è una cosa sempre...